Ciao, sono sempre io, Marlena Krasowska, faccio la personal trainer. Questa è la quarta parte dei nostri esercizi da sei minuti. Ti ricordo di completare cinque video da sei minuti per avere un allenamento completo. Cominciamo! Allarghiamo i piedi, anche le braccia. Fuori l'aria. Fuori! 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 Come vedi, questi esercizi sono ideali anche per le persone obese. L'importante è che non ti arrendi, che lotti per il corpo più bello. Ti sentirai molto meglio dopo allenamenti. Piena di indottine, di felice. Passiamo all'interno coscia. Metti sul lato, gambe rigidissime, porti la gamba in alto in avanti, il piede giù flesso e leggermente alzi. Fuori l'aria. Fuori! 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 Ricordati alla tecnica, quindi il gomito all'altezza delle spalle. Ti raccomando non scendo giù. Tutto il corpo presente, quando alzo la gamba fuori l'aria. Puoi farlo anche più lentamente se ne hai bisogno e cambio lato. Io ho piccoli problemi perché sto sulla sabbia. Sicuramente sarà più comoda a casa. Via! Ricordati il piede flesso. Più alto alzi la gamba e più lavoro interno posso. Perfetto, ritorniamo all'esercizio numero uno. Allarghiamo le gambe, allarghiamo le braccia. Perfetto, fuori l'aria. Fuori, 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 fuori. Non so come te, ma sto già sempre lavorando tutti i muscoli, anche delle gambe. Fa lavorare anche la pancia, gli obblighi dell'addome. Ancora uno. Perfetto. Di nuovo l'interno corsa. Piede flesso, spalle dritte, via. Piede flesso, spalle dritte, via. Piede flesso, spalle dritte. Piede flesso, spalle dritte. spalle dritte. Piede flesso, spalle dritte, via. Piede flesso, spalle dritte. alle dritte, fuori, 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 ancora 15 secondi, godi di questa serie, perché le altre sono più difficili, più esigenti, perfetto, e di nuovo l'interno corso. Via! Ancora deve bruciare, se brucia va bene che brucia, perfetto, e ultimo esercizio, ultima volta. Via! Ancora un pochino, ultimo sforzo, non ti arrendere. Ancora! Sì, con il tuo corpo ti ringrazierà. Brucia non ce la faccio più. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Aggiungi altri 4 video di questo tipo da 6 minuti e avrai allenamento completo.